Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Sono sempre più numerosi i genitori che riprendono con i propri cellulari i momenti di privacy con i loro figli, spesso neonati, per poi condividerli sui social network. Spesso questi video, teneri e simpatici, ottengono migliaia se non milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Cosa ne pensa di questa pratica di riprendere i propri figli mentre giocano, si divertono e diffonderla sul web? Lo trova ingiusto oppure pensa che non ci sia nulla di male? No, no, non c'è nulla di male finché rimane ovviamente nei limiti della normale decenza e ci mancherebbe. Anche perché io sono molto libertino, quindi per me uno può fare quello che vuole finché non invade il privato di un'altra persona. Allora può fare quello che vuole, no, no, assolutamente nessun problema, ci mancherebbe. Il fatto che i figli non siano consapevoli di essere ripresi, magari in tenere età? Parliamo dei genitori, voglio dire, ne hanno il potere e la patria potestà, quindi possono fare o disfare, come meglio credo, sempre nel limite del buon gusto e della decenza, ci mancherebbe. Ovviamente non parliamo di violenza sui minori, se no su questo c'è la massima condanna. Dipende, adesso quando passerà abbastanza tempo e questi cresceranno e si guarderanno sul web, poi glielo chiederemo a loro, io per fortuna sono nata prima. Non sei finita sul web, su Facebook, per colpa o grazie ai genitori? Quando sono nata io, no, non esisteva ancora Facebook quando sono nata io. Sei una che condanna questa pratica oppure no? No, non sono come quella che dice, non dovresti nemmeno scrivere quando andate in vacanza, perché se no la gente lo legge e quindi sicuramente vi verranno a rubare in casa. Secondo me c'è un limite, nel senso la foto, perché così i tuoi amici di tutto il mondo vedono, sono felici, eccetera, d'accordo. Ci sono quelli che mettono gli album fotografici di 50 milioni di foto, però nel senso sono fatti loro e dalla loro famiglia. Poi appunto il loro bambino quando crescerà ognuno se la vedrà nel modo che preferisce, a parte che non credo sinceramente che a vent'anni di distanza bisogna vedere se Facebook esisterà ancora e se qualcuno va lo sbatte di andare indietro a vedere tutti i tag dell'anteguerra, per cui secondo me non fa proprio nessuna differenza. A me sembra strano il fatto che si voglia mettere in mostro il fatto di essere genitori. Una volta si faceva il filmino per vederselo in famiglia, con i figli magari cresciuti. Oggi è quasi un'esibizione per dire sono genitore solo se sto sui social a far vedere i miei figli. Quindi sei a favore della realizzazione del filmato ma non alla condivisione del filmato stesso. Sì, esatto, è quello che secondo me è un po' rischioso. Quali sono i rischi che si possono correre a tuo parere? Ma i rischi di un esibizionismo, di un volersi mostrare a tutti i costi per esistere. Tu non lo faresti mai quindi? No, assolutamente mai. Secondo lei qual è la cosa più bella nel riprendere i propri figli e condividerla poi con il resto del mondo? Ma la cosa bella è che fai vedere dei momenti belli della vita, di cui probabilmente poi quando il minore crescerà, magari quando li vedrà sarà anche contento di vederli. Sono dei bei ricordi, diciamo. Secondo me è perché ti nasce un bambino e sei nella tua piccola bolla di felicità e allora dici voglio che tutti vedano che sono felice, eccetera. Lo stesso che chi non ha figli mette gli aperitivi che fa perché mangio, sono felice e allora anche gli altri devono vedere quanto sono felice e basta. Grazie. 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 Grazie.